E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche oggi andiamo insieme a fare analisi tecnica dei mercati finanziari in particolar modo dei mercati delle criptovalute andiamo a capire quello che è successo oggi nella giornata di oggi su Bitcoin e Ethereum e le principali cripto perché è stata una giornata direi molto divertente l'ho commentato anche su Twitter quindi se non mi seguite su Twitter appunto seguitemi perché anche lì ho modo di arrivare a voi velocemente prima di partire come sempre il mio invito è quello di lasciare un bel mi piace ricordatevi come sempre anche di seguirmi qualora foste nuovi perché i contenuti che faccio sono prettamente time sensitive e questo mercato evolve in maniera veramente veloce quindi è l'unico modo per rimanere aggiornati prima di analizzare un attimo questo movimento voglio farvi un piccolo riferimento perché spero vi faccia piacere quando c'è qualche promo in corso eccetera io cerco sempre di condividere perché vi do la possibilità magari a qualcuno di poter tradare in maniera gratuita e quindi io cerco sempre di condividervi queste informazioni se possono esservi d'aiuto Bingbon che appunto è partner del canale che ogni tanto lo sapete che vi scillo qualcosina trovate qui sotto il link per registrarvi fa questo evento dal 6 agosto al 16 agosto e è molto interessante perché se andate a invitare voi qualcuno qualche vostro amico all'interno della piattaforma oltre a dare 10 dollari bonus di trading oltre i 100 dollari già di base che ha raggiungimento di alcuni obiettivi per voi vi viene dato un price pool di massimo 1 bitcoin che viene diviso su tutti gli invitati appunto come proprio cash accreditato sulla vostra piattaforma quindi è molto interessante perché vedete è un risultato di gruppo fate conto, qui vi fa l'esempio se vengono invitati in totale 3000 persone tra tutti ovviamente gli utenti di Bingbon e voi ne avete invitati 3 il price pool è di 0.3 bitcoin e a voi ricevete 0.0003 bitcoin che sono circa al cambio attuale 10-12 dollari free quindi secondo me ne va la pena in più andate anche ad acquisire ulteriori bonus sulla base dei numeri di persone che andate a invitare con le eventuali leve che potete utilizzare in maniera totalmente gratuita quindi io ve lo scillo sempre perché è interessante poi vi faccio trovare qui sotto in descrizione il link per approfondire se vi è utile partiamo un attimino però da bitcoin perché la giornata di oggi è stata molto interessante come vi dicevo questo perché? perché vedete come in realtà il prezzo non ha fatto altro che da stamattina dal video di questa mattina appunto droppare ok? praticamente è sembrato tanto un sell degnoso ok? più che altro il prezzo secondo me oggi è stato tanto influenzato da quello che è Ethereum ok? il lancio dell'aggiornamento AP quindi dal fork andato a buon fine ha portato un po' secondo me un po' di sell degnoso ma in realtà è stata una trappola o almeno in questo momento sembra una trappola perché? perché il V-Shape Recoveri si è completato ovvero questa mattina alle 7 ci trovavamo in zona 39,3 e oggi siamo adesso siamo a 39,3 e in realtà tutto ciò ha comportato un drop anche abbastanza significativo del prezzo perché abbiamo avuto un low addirittura di un meno 5% che sono 2000 dollari sul prezzo cosa ha fatto? ha droppato e poi c'è stato questo questa candela di riassorbimento che ha dato un ottimo entry point per chi ha voluto sfruttare questo movimento e non vi dico che era abbastanza palese ma in realtà lo è stato perché? non perché come sempre dico abbiamo la sfera di cristallo perché quella non l'abbiamo mai ma questa candela con una shadow così forte ha palesato veramente tanta domanda è andato secondo me a liquidare tante posizioni ed è andata anche ad avere tanta enfasi perché? perché queste 4 ore di fila di drop non avevano dei volumi lo vedete molto accentuati anzi erano volumi molto bassi rispetto ai volumi che abbiamo avuto su questa run up quindi i volumi di questa zona qua paragonati ai volumi di questa zona qua a parità di movimento di prezzo up e down a mio avviso erano abbastanza strani dove ho avuto un po' la conferma di questo movimento su questa candela perché si è chiaramente palesato un supporto guardate le chiusure orarie a 37.964 quindi in realtà sui 38.000 dollari si è palesato questo supporto riacquistate tutte le shadow e infatti poi la candela successiva con volumi bullish molto più forti pari quasi al doppio dell'ultima candela di rottura ribassista delle 11 ci ha sparato direttamente a una chiusura a 39.000 dollari dopodiché siamo andati leggermente ad andare ancora su abbiamo corretto ed ora stiamo andando a cercare un po' il nostro equilibrio perché ha fregato un po' tutti questo movimento perché molte persone hanno valutato molto il discorso by the rumor sell the news quindi ho comprato il rumor dell'aggiornamento di ethereum e vado a droppare ma in realtà poi qui si è scatturito l'effetto contrario è stata come riacquistata la news se vogliamo una cosa di questo genere qua e quindi quello che andiamo a vedere sulla chart è un movimento di questo tipo movimento che è molto simile anche a quello che è avvenuto su ethereum se non in maniera ancora più forte ancora più accentuata perché anche ethereum dalle 8 di mattina ha sofferto tanto addirittura ha trovato un low a 2528 dopodiché ha sparato due candele di fila che addirittura sono andate a rompere i nairai che quindi rispetto a bitcoin in realtà siamo andati a fare praticamente un recupero v-shape dalle 8 di mattina qui siamo andati a davvero a fare uno skyrocket molto forte e mettere un high subito al precedente con un top a 2819 ora sta andando leggermente in correzione ma si mantiene molto bullish in questa fase qua e lo vediamo molto bene anche dal giornaliero perché perché il giornaliero cosa sta facendo sta andando su ethereum a trovare una candela che a dire bullish è poco ok se continua così perché se riusciamo a chiudere il più alto possibile faccio un esempio riusciamo a chiudere a 2008 voi capite bene che avete al di sotto una shadow veramente molto forte e veramente comprata in maniera aggressiva e a quel punto potrebbe aprirci le porte tranquillamente a un ritest dei 2009 barra 3000 dollari ok 3000 dollari dollari psicologici che a quel punto se dovessimo recuperare e dovessimo continuare in maniera rialzista a livello di settore potremmo tranquillamente non avere grandi resistenze fino ai 3400 dollari ovvio che ci tengo sempre a sottolineare non sono né consigli di trading né finanziari tutto quello che io vi dico è una mia idea una mia ipotesi quindi ricordatevi sempre di valutare il rischio quando fate operazioni gestitele con testa mi raccomando ci tengo tanta questa cosa perché non deve mai mancare nell'operatività in questo settore ok non dobbiamo fare gambling ma dobbiamo analizzare il mercato importantissimo però Ethereum si mantiene forte e si mantiene forte anche nei confronti di Bitcoin andando a confermare quella che è la rottura ok di questa trendline che io sto tenendo perché volevo vedere qual era la reazione in realtà abbiamo toccato gli 0.73 quindi target completato sulla base di quello che ci eravamo detti ancora 3-4 giorni fa ora vediamo se abbiamo la forza di continuare a rialzista e poter attaccare a quel punto a mio avviso anche gli 0.77 ovvio che a quel punto diventerebbe super bullish se riuscissimo a rompere addirittura i nai rispetto a questo top locale in realtà perché è un top che va un po' in prossimità a quella che è stata la fase discendente poi del mercato perché darebbe veramente tanto spazio anche al discorso al coin al coin che in realtà in generale vanno a performare bene non tutte ma più o meno tutte e questo è testimonianza di una dominance che continua a correggere e siamo arrivati al bottom abbiamo toccato il 45.5 di questo range se dovessimo perdere ulteriormente a mio avviso il contatto con il 44.5 quindi un altro 1.2 di correzione possiamo averlo e davvero lì potrebbe andare a fare grandi grandi cose soprattutto sulle alte perché se il mercato continua a crescere in termini di market cap ovviamente voi capite bene che potremmo davvero tornare a vedere le alte protagoniste ed è diciamo che è una cosa che molti retail aspettano che magari sono rimasti scottati con le loro alte nella fase di correzione a livello di market cap ci manteniamo sugli 1.61 trillions quindi tra virgolette bene perché torniamo nella parte ci stiamo cercando di approcciare la parte alta di questo range per me veder recuperati gli 1.76 1.8 con chiusura sarebbe un'ottima cosa perché vedremo davvero respirare un po' la market cap e potrebbe aprire le porte anche una bella rottura di bitcoin sto aspettando quello ok a livello invece di total total 2 legata alle alt ovviamente stiamo andando a fare un più 0.5 con un meno 0.3 questo perché le alt performano meglio di bitcoin in una giornata odierna da un punto di vista appunto attuale quindi vedremo poi le chiusure però anche qua ci manteniamo comunque bene il mio target è un trillions ok sulle alt un trillions che potrebbe essere molto molto importante e interessante ragazzi non voglio andare oltre perché voglio vedere le conferme da bitcoin voglio vedere quello che accadrà voglio capire effettivamente il movimento dove andrà ad esaurirsi perché è lì che troveremo maggiori conferme come sempre se questo contenuto vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace iscrivete al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati trovate qua sotto in descrizione tutti i link utili e basta noi ragazzi ci torniamo domani con il morning with crypto io intanto vi auguro una buona serata a tutti ciao ragazzi